Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo Prima di iniziare con la sigla oggi faremo un versus con la pellicola Instant X a colori con quella in bianco e nero Andremo a scoprire un po' meglio qual è la migliore Tutto questo, subito dopo la sigla E quindi benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo Oggi faremo come detto in anticipo un versus tra queste due pellicole E andremo a spiegare ancora più in dettaglio come funzionano le due tipologie di pellicola Un'altra cosa che aggiungerò in questo episodio E che effettivamente ho notato a fine registrazione dell'episodio precedente sulla pellicola colori E che io vi ho fatto delle foto con dei soggetti Ma effettivamente a livello ambientale Quindi a livello di oggetti e non di soggetti Come sono le nostre pellicole Vi ho preparato quattro esempi per pellicola Così da farvi capire al meglio qual è meglio utilizzare in un ambito E qual è meglio utilizzare in un altro ambito In verità non ci sarà un vero e proprio valore Quindi qual è la migliore e qual è la peggiore Sarete voi a deciderlo Io darò solo una piccola opinione su queste due pellicole Ma iniziamo con la nostra recensione su queste pellicole Ed ora entriamo un secondo nel lato tecnico veloce Per riassumere costi e tipologia di esposizioni Partiamo da quella Colori Quella Colori ha un'esposizione di ISO 400 Quindi è molto luminosa come fotografia finale Ma andremo poi a parlarne con calma durante questa puntata Il costo della pellicola per 10 pose è di intorno ai 10-12 euro E si può trovare facilmente su Amazon in pacchetti da 20 che costano 16,99 euro O pacchetti da 10 che costano appunto intorno ai 10-9 euro Mentre quella in bianco e nero ha un costo dai 6 ai 12 euro C'è solo un piccolo problema effettivo Che su internet si possono trovare veramente pochi negozi che la vendono E su Amazon è impossibile da trovare I negozi che la vendono la vendono intorno ai 6 ai 12 euro E di conseguenza abbiamo più o meno un modo per tra virgolette cavarcela con poco Io ne ho ordinate due paia Ovviamente ho notato una piccola cosa Cioè sul lato superiore che molti negozi che vendono Vendono cartucce non so se scadute oppure comunque abbastanza vecchie Infatti il production number che vediamo qua È effettivamente del 2019 per quello in bianco e nero E ha colori 2023 Quindi queste potrebbero essere anche cartucce per le Instant X9 e neanche 11 Ma comunque ho notato che funzionano effettivamente Perché abbiamo fatto diverse prove e si espongono in una maniera corretta Quindi non si capisce neanche il use before Oppure se è il product number e quindi in conseguenza il numero di produzione Però dovrebbe essere sopra il use before e poi sotto il product number E questo è in secondo le nostre pellicole Mentre quelle in bianco e nero appunto hanno un'esposizione di ISO 800 E quindi sono ancora più luminose Ed è più facile anche che finiamo a fare grana nell'immagine Essendo un versus tra le due pellicole Ho preparato le foto in modo che potessero essere scattate senza l'uso del flash Perché purtroppo come sapete la mia Instant X ha qualche problema E scatta a prescindere col flash Di conseguenza l'ho coperto in modo che avevamo delle immagini naturali Con la luce naturale e capire effettivamente come era l'esposizione Come prima foto di oggi vorrei scattare una foto ambientale a livello di alberi In questo momento abbiamo la cartuccia a colori al suo interno Questo è l'albero che ho scelto per l'occasione Ma faremo una cosa in selfie mode E qui un piccolo disclaimer che ho notato purtroppo scattando nel primo set effettivo Che abbiamo fatto e che vi ho già mostrato È che purtroppo l'obiettivo non è effettivamente un 60 mm Ma è molto molto meno Secondo me è più un 35 e un 25 Perché ha un formato un pochettino panoramico Però un piccolo disclaimer Se volete scattare modalità selfie e quindi con sfondo sfocato Il soggetto non deve andare oltre i 50 cm E la messa a fuoco funziona tra i 60 e i 50 cm Se invece vogliamo scattare un panorama Allora in questo caso non ci interessa attivare la modalità selfie E la modalità non selfie, quindi la modalità normale Funzionerà dai 50 cm all'infinito Però avremo sempre un minimo di sfoco Ma iniziamo con la prima foto 5, 4, 3, 2, 1 Ok La seconda foto che voglio provare a fare non è voluta in verità L'ho notata per puro caso perché sta apparendo in mezzo agli alberi Dei bellissimi spiragli di luce Quindi scatteremo la seconda foto appunto qui La terza posizione, cioè la terza posa che andremo a fare sarà questo Un albero completamente giallo Infatti è veramente molto bello perché sotto ci sono le foglie gialle, le foglie rosse Ci sono anche tante macchine Sta apparendo in questo momento il sole Ma il problema è che noi non vogliamo né le macchine né l'ombra La prima posa invece sarà una macro effettiva Perché mi sono accorto effettivamente che non ho scattato prima in macro E di conseguenza la quarta ed ultima posa sarà fatta su quel tronco a 30-50 cm di lunghezza E adesso una volta che siamo rientrati in studio Dopo avermi mostrato più o meno come sono scattate le diverse genere di fotografie Possiamo andare ad analizzare più nello specifico effettivamente cosa è uscito fuori E iniziamo direi da quelle a colori Prendiamo di nuovo magicamente il nostro computer che appare sul nostro tavolino arrangiato da una scatola E andiamo a parlare della prima foto Infatti viene scattata in modalità normale senza flash La resa è tonalità fotografica, è molto fredda Si può anche notare una leggera vignettatura sui bordi della nostra foto Ma soprattutto, tutto sommato, l'effetto che esce fuori finale è carino Luce e qualità sono soddisfacenti Quindi prima foto salvata La seconda foto, come spiegato anche prima nel video dove la stavo scattando in verità fuori Doveva in teoria vedersi un po' gli spiragli del sole Però non è stata effettivamente esposta nel modo corretto E di conseguenza questo è il risultato Una foto molto scura Quindi con fonti di luci dirette non va proprio bene questa macchina fotografica Quindi spiragli o altro Come potete vedere gli spiragli proprio non si vedono Ma la foto è proprio spenta, cioè è morta completamente È da buttare insomma Questa è venuta proprio male di foto La terza foto invece è venuta meglio del previsto E l'effetto finale è veramente veramente bello Il giallo è saturo nel modo corretto Quindi neanche troppo esagerato Quindi qui la macchina ha esposto effettivamente nel modo giusto Non so se ha scattato col flash o meno Ma secondo me è la prima volta effettivamente che la macchina fotografica non ha mai scattato col flash Ed effettivamente ombre, luce e tutto sono giuste Anche se ho notato un leggero sfocatura sulla parte superiore della macchina fotografica Questo non so se è dovuto all'umidità Se è dovuto all'obiettivo che non era aperto molto bene Quindi diciamo è salvata Ma c'è il punto di domanda su come mai è successa sta cosa L'ultima foto invece è un tronco scattato in macro Quindi a circa 40 cm di distanza E veramente sono rimasto stupito dell'effetto finale che è uscito fuori Vi dico la verità Infatti l'illuminazione e i dettagli ci sono tutti in modalità selfie E il risultato finale acquisito è veramente da 10 in lode Mi piace veramente tanto Luce e tutto sono giustissime Oltre che appunto il dettaglio è perfetto Ed ora passiamo al bianconero L'argomento che a me piace in assoluto perché mi fa impazzire il bianconero Però la domanda è si comporterà nello stesso modo la pellicola Anche perché io vi ricordo è al doppio dell'esposizione È a ISO 800 e non a ISO 400 Quindi qui c'è qualche dubbio che secondo me la pellicola o sarà troppo sensibile Quindi i neri saranno più grigi che i neri effettivi E i bianchi saranno troppo sparati e non verranno manco calcolati Quindi si comporteranno nello stesso modo Andiamo a scoprirlo Attiviamo la nostra macchina fotografica Mettiamola sempre in selfie mode E andiamo a scattare esattamente in prospettiva dell'altra volta Quindi utilizzando sempre lo specchietto frontale E essere sicuri che quello che stiamo inquadrando è effettivamente il tronco Sì, perfetto Siamo pronti a scattare la prima foto Anche questa sarà in one shoot Quindi come viene, viene La seconda posa che voglio fare, a differenza delle altre volte È effettivamente questa dei graffiti Io ho sempre adorato i graffiti in bianco e nero Però la prenderemo in una prospettiva un po' diversa Per capire un secondo come si comporta Sempre in modalità macro Sempre senza flash E questo ci permetterà un secondo di capire Quanto è il contrasto da parete bianca a graffiti Ovviamente purtroppo non ci sono dei bellissimi graffiti Qui nelle vicinanze Quindi utilizzeremo questi qua ad esempio La terza posa invece andremo sempre a farla su questo albero al sole Vedere un secondo, a differenza di quella a colori Quanto effettivamente il bianco e nero è più contrastante Quindi iniziamo Allora, ammetto che l'ultima che voglio fare è molto azzardata Perché come vedete è esattamente la prospettiva di questa telecamera Cioè quella che state vedendo in questo momento Infatti l'ultima prospettiva che volevo prendere Era proprio questa qui Dei raggi soli Ma per capire effettivamente il contrasto tra luce del giorno e l'ombra E questo ci permette anche di capire quanto è sensibile la nostra pellicola al sole E vedere effettivamente cosa riesce a fare Allora, la prima foto è il seguito della quarta foto che abbiamo scattato per ultima Della versione colorata Infatti in sto caso la macchina fotografica forse ha rilevato la tipologia di cartuccia O la luce che era diversa, non lo so E il risultato è uscito completamente diverso da quello dei colori Perché quello dei colori era comunque accentuata ad avere una luminescenza maggiore Mentre il bianco e il nero è diventato effettivamente molto cupo Infatti è venuta bene la luce La macro è perfetta e molto nitida Ma potremo notare effettivamente che ombre e luci Le luci sono un po' troppo E le ombre sono troppo basse Di conseguenza il nero è veramente scuro E non avremo proprio un'immagine ben dettagliata Ma carina comunque da vedersi La seconda foto invece Che è il clone della numero 3 di quella a colori È venuta fin troppo esposta E di conseguenza si perdono quasi tutti i dettagli delle luci sulle foglie E probabilmente la macchina fotografica in quel caso ha rilevato troppa ombra E ha disposto di più l'immagine Quindi ha messo il flash in poche parole Però questo ha rovinato ulteriormente la foto Perché come vedete non c'è dettaglio né niente E non ci siamo, non ci siamo La terza foto invece sono molto stupito del risultato Dico la verità Sono stupito perché vi ricordo che è stata scattata in dettaglio Cioè in macro E effettivamente anche qui a 40 cm di distanza Avremo la messa a fuoco perfetta E sono molto, 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 molto incredulo Dai dettagli che sono usciti fuori Sia sulla parte del muro Quindi dei graffiti che sono evidenziati Ma non troppo Ma anche dello sfondo sfocato E soprattutto di una leggera vignettatura Al centro dell'immagine Che sembra quasi che l'obiettivo abbia esposto Più la parte centrale e meno i bordi Quindi è tutto un insieme di particolari cose Che sono veramente molto, molto belle da vedersi E secondo me ha reso questa foto Inizialmente impensabile Perché pensavo che veniva fuori una cosa oscena Invece è una cosa bellissima La quarta invece d'ultima foto È un dettaglio sull'erba Questo in verità l'ho fatta Perché volevo capire effettivamente A parte la messa a fuoco Che oramai mi era venuta il pallino in testa Perché ho detto È 40 cm o è di più o è di meno Non si capisce Quindi ho fatto effettivamente Il calcolo della distanza Ma oltre a questo Volevo anche vedere come si comportava A contatto con la luce diretta E con le ombre dirette E vedere un secondo il risultato finale Ragazzi sono stupito della foto finale Come state vedendo l'immagine È veramente Non dico molto accentuato Nell'ombra, nella luce Però i colori sono perfetti Sembra proprio una foto Con l'imbianco nero proprio vecchio stile E sono molto soddisfatto anche Dello sfondo sfocato che si è creato Perché ricordo Eravamo in modalità macro E questo è veramente ottimo Piccolo resoconto Prima di chiudere ufficialmente Anche questo episodio Versus Che sta durando veramente tanto È secondo me Quindi nello scattare al sole Con questo tipo di pellicola Accentua di molto i dettagli Le ombre sono più definite In bianco e nero Che a colori Però sinceramente Ora mio parere personale Adesso mi dovrò anche Spostare un pochettino In modo che la computer grafica Ci dia un secondo una mano E far apparire qua Un secondo le immagini Per fare un breve Versus È che Basta vedere I minimi confronti Tra la foto 3 Color E la 2 Bianco e nero Che potremo notare La differenza Tra le due pellicole E come state vedendo Effettivamente La color Su una parte di ambiente Quindi di natura Accentua molto di più I colori Mentre quella in bianco e nero Li cancella completamente Questo è un po' Un modo per capire Colore e bianco e nero Come vengono gestiti Dalla nostra Instant X Che poi non vengono Effettivamente gestiti Perché non c'è un profilo colore È quello che riesce A impregnare Nel suo obiettivo E quindi A trasferire Sulla pellicola Stessa cosa Possiamo fare Anche un altro confronto Con la 4 color E la prima Bianco e nero Per vedere le ombre Come in un modo Vengono accentuate Nell'altra di più E nell'altra foto Di meno E questo È veramente ottimo Quindi questi Era un secondo Due mini confronti Per mostrarvi un po' Come si comportavano Le nostre fotografie E soprattutto Le nostre pellicole E adesso Fum Mi ritorno qua Al centro Per chiudere l'episodio Dove andremo Un secondo A dirvi Velocemente Che l'episodio prossimo Sarà Sulla fotografia Ancora In bianco e nero Però Sulla parte Di un soggetto Andremo A prendere la nostra Macchina fotografica Andremo a provare La nostra pellicola Sul bianco e nero E vedremo Un secondo Come si comporta Con il nostro Sistema Ma Adesso Chiudiamola qui Ci saranno ancora Dopo questo episodio Altri due episodi Il primo Appunto Questo qui In bianco e nero Su un soggetto E poi L'ultimo episodio Sarà una mini guida Visto che mi avete chiesto Su come si caricano E sostituiscono Le cartucce E degli avvisi Se c'è qualcosa Da non fare Assolutamente Per non rovinare La pellicola E tutto Insomma Andrò a rispondere A due domande Che mi avete chiesto Appunto Se si può sostituire Mentre si sta scattando Anche se all'interno Ci sono delle altre cartucce E inoltre Come si vanno A inserire le cartucce Come si va a smaltire Il vecchio apparato Che non si usa più Perché ha finito Il numero di pellicole E quindi niente ragazzi Da questo episodio È tutto Io vi ringrazio Per aver visualizzato Questo video E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao